La visita a Bari del vice premier Matteo Salvini si chiude con un fuori programma a margine della cerimonia inaugurale della Fiera del Levante. L'editore di Antenna Sud, Domenico Distante, e il direttore editoriale Pierangelo Puzzolo consegnano al ministro una vignetta del noto Nico Pillinini. Il tema, sempre caldo, è quello dei migranti. Protagonisti, oltre a Salvini, anche il presidente della regione Puglia, Michele Emiliano, e il sindaco di Bari, Antonio De Caro. Adesso che si vota a Bari, ci dici il nome del candidato, cioè Fabio. Lui, chiusa, chiusa, manda la prima, manda la prima. Grazie. I tre sono sul molo e all'orizzonte si staglia la caravella da sempre simbolo della campionaria barese. Con il ministro Salvini che esclama, ditemi, che non è una nave di migranti. Onore alle televisioni locali, che spesso i orientieri fanno più servizio pubblico di grandi televisioni nazionali. C'ho anche le occhiaie, c'ho le occhiaie. No, ma tu sei alto e slanciato. Tu sei alto e slanciato. C'è pure De Caro che ha fatto il servizio di Emiliano. Siamo nella giornata dell'inclusività, della tolleranza.